Prima la bici è una campagna di comunicazione che mette al centro l'uso della bicicletta come principale mezzo per muoversi a Ferrara, avviato dall'assessorato l'ambiente del comune in collaborazione con il gruppo di cittadini mobilità urbana Ferrara. Dobbiamo continuare a lanciare messaggi chiari, ha sottolineato Giuliano Giubelli, consigliere nazionale FIAB, affinché soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria la bicicletta diventi il mezzo di trasporto principale, invertendo la tendenza che vede al primo posto l'auto con percentuali doppie. 60% di persone usano l'auto privata, il 30% la bicicletta, circa il 10% il trasporto pubblico. Quest'oggi abbiamo presentato la campagna Prima la bicicletta, una campagna che parte da un crowdfunding creato su Idea Ginger, che è una piattaforma sulla quale tutte le persone possono donare. Questo progetto è nato in collaborazione con l'assessorato all'ambiente e durante il lockdown. È una proposta che è stata fatta dalle associazioni FIAB di cui sono presidente appunto, EMUF, Mobilità Urbana Ferrara, per i quali appunto ci siamo ritrovati e abbiamo creato tutta questa campagna che finirà con l'affissione di manifesti in tutta la città per portare appunto questo messaggio. A Ferrara, prima la bici. Durante il lockdown l'assessorato all'ambiente e alcuni di Ferrara ha elaborato alcune strategie insieme a associazioni ambientaliste e attente alla mobilità urbana. Insieme di concerto abbiamo pensato una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione in certa realtà sulla bicicletta, il mezzo principe di chi rispetta l'ambiente e soprattutto dei ferraresi. In questa collaborazione tra comune e associazioni verranno affissi questi manifesti green stampati rispettando l'ambiente con della carta riciclata in tutta la città per dare un messaggio molto chiaro. A Ferrara, prima la bicicletta. Grazie.